cari amici come di solito ecco adesso leggiamo le notizie del mese di giugno 2023 e sono con padre tonino faccio la mia parte lui fa la sua cari amici siano lodati gesù e maria il 25 maggio 2023 la veggente maria ha ricevuto il messaggio mensile cari figli vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'altissimo parli al vostro cuore e perché sentiate la forza dello spirito santo per testimoniare l'amore che dio ha per ogni creatura io sono con voi e intercedo per tutti voi grazie per aver risposto alla mia chiamata le profezie oggigiorno a causa dell'incertezza regnante molte persone sono alla ricerca di parole ispirate gesù ci ha avvisato al riguardo negli ultimi tempi sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti matteo 24 11 ebbene quindi rivolgersi verso coloro che hanno testimoniato la loro autenticità con la santità della loro vita personale e con la carità alcuni sono stati beatificati e o canonizzati optiamo per degli esempi sicuri per evitare di cadere nelle trappole sottili dei falsi profeti che sono lupi rapaci in veste di agnelli di fronte a queste ricerche talvolta angoscianti maria ci invita a non perdere di vista il fine della nostra vita sulla terra la nostra salvezza nel nome del suo figlio gesù il cielo quando viaggiamo se siamo sicuri della destinazione siamo anche in grado di superare gli ostacoli e le prove che incontriamo lungo il percorso ecco alcune profezie in linea con il vangelo pronunciate da maria santissima e da altri santi a fatima maria ha detto ai pastorelli alla fine il mio cuore immacolato trionferà alla fine di che cosa lei non l'ha precisato ma una cosa è sicura non si trionfa sulla pace è quindi chiaro che questo trionfo sarà preceduto da un tempo difficile che stiamo già vivendo attualmente questo tempo difficile non durerà a lungo grazie a dio perché è come un intermezzo che precede il tempo nuovo di cui maria ci parla nei suoi messaggi la venerabile martha robin 1902 1981 affermava che dio sta preparando del mondo ad una nuova pentecoste d'amore ma prima di ciò esso cadrà molto in basso soprattutto la francia a me giugorio e la veggente visca dichiara con forza la gospa realizzerà i suoi piani tutto ciò che non viene da dio sparirà e aggiunge che il trionfo del cuore immacolato di maria è molto vicino la madonna ha rivelato a questa veggente la sua vita sulla terra e lei l'ha scritta su due quaderni che saranno pubblicati non appena maria lo permetterà la beata anna maria taigi 1769 1837 che aveva uno straordinario dono di profezia affermava il mondo conoscerà una grande purificazione in seguito ad una illuminazione delle coscienze che consentirà a ciascuno di vedere la propria anima come la vede dio il cristianesimo si diffonderà nel mondo intero intere nazioni torneranno nella chiesa e si rinnoverà la faccia della terra il 30 dicembre 1819 la beata anna caterina emmerich 1774 1824 ebbe la visione di una battaglia spirituale che si concluse con la vittoria della chiesa dio le mostrò che la chiesa sarebbe stata soccorsa in maniera particolare dall'arcangelo san michele che la libererà da terribili tribolazioni questa lunga visione della beata anna catarina è molto incoraggiante ed è sviluppata sul nostro sito don dolindo ruotolo il padre pio di napoli ha dato spesso prova del suo carisma di profezia poiché vedeva non solo le anime ma anche alcuni eventi futuri che avrebbero riguardato la chiesa in particolare anche lui vedeva il futuro rinnovo della chiesa dopo un periodo di grande purificazione ecco alcune parole che maria santissima comunicò a don dolindo solo una grande misericordia può far superare al mondo il baratro nel quale è caduto il mondo è diventato un campo di morte nessuna voce lo risveglia se una grande misericordia non lo solleva voi perciò figlie mie dovete implorare questa misericordia rivolgendovi a me che ne sono la madre che cosa credete voi che sia la misericordia non è solo l'indulgenza ma è anche il rimedio la medicina l'operazione chirurgica la prima misericordia che deve avere questa povera terra e la chiesa per prima deve essere la purificazione non vi spaventate non temete ma è necessario che un uragano terribile passi prima sulla chiesa e poi sul mondo la chiesa sembrerà quasi abbandonata e da ogni parte la diserteranno i suoi ministri dovranno chiudersi persino le chiese il signore troncherà con la sua potenza tutti i legami che ora la vincono alla terra e la paralizzano hanno trascurato la gloria di dio per la gloria umana per il prestigio terreno per il fasto esteriore e tutto questo fasto sarà ingoiato da una persecuzione terribile nuova allora si vedrà che cosa giovano gli appannaggi umani e come valeva meglio appoggiarsi a gesù che è la vita vera della chiesa tutto questo è misericordia non è male gesù voleva regnare dilatando l'amore suo egli dunque disperderà tutto quello che non è suo don dolindo sta riportando la pace interiore in migliaia di persone grazie ai suoi scritti sull'abbandono a dio e alla sua famosa preghiera gesù mi abbandono a te pensaci tu gesù mi abbandono a te pensaci tu oggi queste anime privilegiate ci aiutano ad innalzare lo sguardo verso l'unico che può salvarci e che lo fa per amore e non per forza ricordiamoci anche che con dio la fatalità non esiste ogni profezia rimane imperfetta perché come attestano diversi episodi della bibbia dio può modificare i suoi piani ascoltando la preghiera dei suoi figli nel messaggio del 2 maggio 2013 la madonna dichiara figli miei mio figlio vi ha dato i pastori custoditeli e pregate per loro padre robert americano non fa eccezione come ogni sacerdote anche lui conosce la sprezza del combattimento spirituale e sa per esperienza che il nemico del genere umano sarebbe contento di distruggere il sacerdozio oggi più che mai il sacerdote è molto prezioso nel piano di dio per questo la madonna ci invita non soltanto a pregare per i nostri pastori ma anche a custodirli vegliare su di loro padre robert mi ha permesso di esplorare un po di ciò che un sacerdote può vivere e soffrire nell'esercizio del suo sacerdozio e quali precipizi deve a volte sfiorare gli lascio la parola quando fui ordinato sacerdote fece al signore una promessa in accordo con il mio padre spirituale al fine di proteggermi mi impegnai a porre sempre un tavolo tra me e i fedeli che venivano a trovarmi a volte fu difficile mantenere tale promessa ma con la grazia di dio ci sono sempre riuscito e questo mi ha salvato un giorno venne a trovarmi una donna che aveva bisogno di parlare con un sacerdote della sua situazione familiare molto complessa fin dal primo incontro provai per lei una forte attrazione veniva spesso a causa della gravità del suo problema sperava di trovare in me a suo dire quel conforto che nessuno le dava improvvisamente mi innamorai di lei provavo tutti i sintomi tipici di un uomo invaghido di una donna e cominciai a pensarla costantemente tutto il mio essere era invaso dalla sua presenza e non riuscivo a controllare il cuore ogni volta che veniva a trovarmi sentivo il desiderio di stringerla tra le mie braccia e di quanto lo detestavo e quante volte avrei voluto aggirarlo e rovesciarlo tuttavia era lì e non si muoveva questa tortura durò tre anni fino a quando un giorno durante un ennesimo incontro d'un tratto mi resi conto di non provare nulla per lei la trazione scomparve con la stessa velocità con la quale si era manifestata non mi riconoscevo più e non riuscivo più a vedere ciò che in precedenza mi avesse attirato in quella donna che sollievo continuai dunque ad aiutare questa parrocchiana con grande libertà interiore che un fratello prova verso una sorella in cristo capì allora che il sentimento provato verso la donna era stata una trappola tesa dal nemico per distruggere il mio sacerdozio ma la grazia previdente di gesù durante l'ordinazione sacerdotale mi aveva suggerito di fargli la promessa del tavolo e in quel momento non potevo lontanamente immaginare che questo oggetto avrebbe salvato la mia vocazione in seguito padre robert esercitò un carisma particolare verso le persone tormentate ricevette il dono di vedere ciò che non andava nelle loro vite e di sradicare il male attraverso la sua preghiera quanti cuori avrà aiutato quante vite avrà salvato pregando e testimoniando la misericordia di dio quale perdita avrebbe potuto causare la sua caduta per tantissime anime sofferenti oggi questo sacerdote è tornato alla casa del padre pieno di gioia per aver potuto servire umilmente la chiesa e per essere rimasto fedele al sacerdozio nel mezzo della tempesta grazie a quel benedetto tavolo se padre robert nel giorno della sua ordinazione previde il modo con cui proteggersi nel futuro anche noi possiamo piazzare dei tavoli per custodire e proteggere i nostri sacerdoti evitando così situazioni che potrebbero farli cadere non è forse questo un modo di vegliare su di loro non toccate i miei consacrati non fate alcun male ai miei profeti dice la bibbia parlando di piercing un sacerdote italiano venne a meggiugorie con un gruppo di giovani vedendo che la maggior parte di loro aveva piercing e tatuaggi li prese a parte uno a uno per spiegare loro i pericoli di tali pratiche e per dire loro che dio chiede al suo popolo di non fare incisioni sul corpo né segni di tatuaggio levitico 19 28 ma nessuno rinunciò ai propri piercing nella notte questo sacerdote trascorse ore e ore in preghiera affidando ognuno dei suoi giovani a maria e dicendo agisci tu io ho fallito l'indomani mattina il gruppo si recò alla croce blu per l'apparizione della madonna alla veggente miriana di ritorno alla pensione quale non fu la sorpresa del prete quegli stessi giovani andarono da lui uno ad uno per consegnargli i loro piercing nessuno escluso era sconvolto con un sorriso disse alla madonna quello che io non ho potuto fare l'hai fatto tu mise tutti quei piercing in una busta e li depose nel luogo delle apparizioni la madonna ama molto i fiori ma credo che si rallegra ancora di più quando le consegniamo le cose che nuocciano ai suoi figli carissima gospa vogliamo chiederti una cosa desideriamo far parte di quel piccolo resto che stai radunando intorno a te da tanti anni e di quelli che tu chiami apostoli del mio amore come te e con il tuo aiuto scegliamo la vita in questo mondo che invece ha scelto la morte come hai detto tu stessa non è affatto facile rimani sempre con noi così come il signore è sempre con te custodicici nella fedeltà e fa che rimaniamo nel tuo abbraccio materno fino al trionfo del tuo cuore immacolato carissimi fratelli e sorelle ecco vi benedico il signore vi protegga sempre con il suo santo spirito e vi dia tanta luce tanta forza e tanta grazia per testimonare al mondo l'amore la gioia di cristo risorto la pace nei cuori che sono disperati un abbraccio forte vi benedica dio onipotente padre figlio e spirito santo amè